E' accusato di tentato omicidio plurimo aggravato, minacce, lessioni e resistenza pubblico ufficiale. Il 45enne di Afragola con precedenti di polizia è arrestato nella tarda serata di ieri dopo una collottazione. Tutto nasce dalla segnalazione di una persona che dava in escandescenza. Gli agenti del commissariato di Afragola, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato alcuni condomini i quali hanno riferito che poco prima del loro arrivo un vicino aveva minacciato di far esplodere alcune bombole di gas presenti nella sua abitazione per poi barricarsi nella stessa. In un primo momento gli operatori hanno tentato di far desistere l'uomo dai suoi intenti ma avendo avvertito un forte odore di gas, con il supporto dei vigili del fuoco hanno deciso di fare eruzione in casa. Nel frattempo il malintenzionato si era chiuso nella camera da letto e dal balcone della stessa minacciava gli agenti in strada lanciando contro gli stessi diverse suppellettili, alcuni coltelli ed anche una bombola di gas. Contestualmente altri operatori sono entrati nella stanza e non senza difficoltà e dopo una colluttazione lo hanno bloccato portando a termine l'arresto.